Il presepe non è mai fuori tempo, anche se il Natale è passato già, perché è un valore universale. Certo riguarda i cristiani, riguarda una data precisa, un tempo che viene preparato, vissuto più o meno bene, ma il messaggio che ricaviamo dal presepe è veramente universale. Potrebbe affradellare l'intera umanità, perché si tratta di aprire gli occhi e di scoprire accanto a noi chi più piccolo di noi ha bisogno di noi. Lì si nasconde Dio e lì l'umanità può ritrovare la via per costruire qualcosa di buono per il presente e soprattutto per il futuro. Grazie.